Così si deve iniziare a migliorare la situazione. La situazione è di una rete che perde acqua, molta, e quindi evidentemente c'ha bisogno di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di investimenti che stiamo programmando. Ci vorrà del tempo evidentemente, i miracoli non li possiamo fare, però stiamo facendo di tutto per rimettere sulla strada tutta questa gestione idrica. Ai Messinesi, in vista dell'estate, la preoccupazione è quella del rischio che si possa restare nuovamente senza acqua. L'Amamma si sta morendo, sta aspettando la consegna dei cantieri da parte della protezione civile, che diciamo che da quanto ho potuto appurare arriva un po' in ritardo. Ci li consegneranno, ci dicono i primi di luglio, noi siamo pronti a mettere i tubi, ma comunque lì è assicurata il flusso dell'acqua con i tubi di riserva. Stiamo progettando tutti gli interventi di manutenzione straordinaria lungo il fiume freddo e siamo pronti a intervenire su Forza d'Agro, perché purtroppo lì alcuni enti deputati non ci hanno dato riscontro e noi, avendo l'obiettivo e la missione unica di portare l'acqua, come dico, portare l'acqua pulita e ritirare quella sporca, questo dobbiamo fare e quindi stiamo provvedendo tecnicamente a fare in modo di intervenire nei prossimi giorni su Forza d'Agro, l'abbiamo già scritto, stiamo acquistando i materiali in modo da evitare quella potenziale... Grazie.